Il linguaggio dell'inconsso per il benessere e la qualità della vita. Dunque il linguaggio delle emozioni, questo motore della nostra vita, potente energia, amate e temute. Ebbene le nostre emozioni hanno un loro linguaggio, un linguaggio accessibile, un codice universale, non verbale, la cui scoperta e decodifica sono frutto degli studi, a partire fin dagli anni Sessanta, di Stefano Benemeglio, psicologo, ipnologo, ricercatore e padre delle discipline analogiche, cioè di quel complesso di conoscenze sulle leggi e le regole che governano l'emotività umana. Un codice universale, non verbale, accessibile, in modo diretto, immediato, limpido, attraverso proprio questa decodifica che consente di dialogare con la nostra parte emozionale, quella scatola nera, questa sfera così importante della nostra vita, tanto da orientare buona parte dei nostri comportamenti. Un dialogo che consente un ascolto nuovo di esigenze profonde, di disagi, desideri, che spesso la mente logica non immagina neanche. E attraverso questo dialogo perseguire e conseguire un benessere nuovo, nel quale il nostro inconscio, la nostra sfera emozionale, non sia più un avversario, un nemico interno, ma un potente alleato. Quindi una nuova filosofia di vita, una nuova modalità di incontro con se stessi e con gli altri. Quindi l'incontro e non più lo scontro, la scelta e non più subire le proprie stesse scelte. Iniziamo dunque questo viaggio, con Stefano Benemeglio, all'interno delle discipline analogiche. Analogico sta per emotivo, entrando subito nel vivo, in questa eterna lotta tra ragione ed emozioni, in questa dinamica binaria di contrapposizione tra il pensiero meccanicistico, che è quello della mente razionale, e il pensiero energetico, cioè quello della nostra emotività. Così potente, come dicevamo, da dare origine a quello che è il principale assioma delle discipline analogiche, e cioè non cade foglia che l'inconscio non voglia. Ma cos'è che vuole realmente il nostro inconscio? Il nostro inconscio vuole appagare le proprie esigenze, come del resto anche la nostra istanza logica vuole appagare le proprie esigenze. L'istanza logica tenta di appagare le proprie esigenze attraverso le regole, le regole impartite, e queste regole rappresentano il mondo dell'istituzione, in qualsiasi contesto esse siano applicate. Ecco, queste regole che hanno uno scopo ben preciso, quello di pilotare le emozioni in sostanza, affinché queste emozioni possano mantenersi all'interno di quel percorso regolato. Ecco, l'inconscio invece ha l'esigenza di rigenerare praticamente le emozioni, quindi mentre la parte logica ha poi come sintesi l'esigenza di appagare i bisogni, le esigenze, l'inconscio invece ha l'esigenza di rigenerare queste esigenze, perché se sono appagate poi non saranno più espletate, se non attraverso una nuova rigenerazione. Quindi la continuità dell'essenza umana è data dalla possibilità di appagare, ma anche di rigenerare. Allora, queste funzioni, apparentemente molto complementari tra appagamento e rigenerazione, alcune volte possono entrare in conflitto tra loro, ecco, e quindi portare a uno stato di disarmonia e non di armonia l'individuo. E quando questo avviene, quando non c'è più armonia, non c'è più quell'incontro di cui tu parlavi, ma c'è lo scontro. E quindi c'è il conflitto, questo conflitto che poi prende il nome di turbamento, prende il nome di disagio emotivo, prende il nome anche di problema, quando poi si concretizza in fatti o eventi della nostra vita. Ed ecco che in questo momento ci troviamo di fronte a un grande conflitto, in cui praticamente queste due forze istintuali e quella della ragione entrano fortemente in conflitto con se stessi. Un po' come a dire che il principio di libertà può entrare in conflitto con il sogno. E in quel caso abbiamo la distonia, ecco il punto fondamentale, il turbamento. Quindi una dinamica... Un tumulo energetico che rimane imploso, questa è la distonia, e non esploso. Prego. Sì certo, dicevo. Quindi una dinamica di tipo binario, quella dei nostri sistemi mentali. E certamente di tipo binario alla base, perché queste due istanze sono due elementi opposti tra loro, che però legano l'insieme sistemico dell'individuo proprio in funzione di questa opposizione, in quanto una, come ripeto, riveste un ruolo appagante e l'altra rigenerante. Sì, abbiamo parlato di turbamento che è una delle parole chiave delle discipline analogiche insieme a distonia. Sappiamo che la distonia in fondo è la differenza tra un'esigenza e proprio l'appagamento che arriverà. Parliamo di oggetto del desiderio, tra appagamento e turbamento. Diciamo che nel momento in cui si attivano queste dinamiche, ossia quello del possibile appagamento, come quello della possibile rigenerazione, inevitabilmente necessita la presenza di un oggetto, che viene appunto definito oggetto significativo, ossia quel qualcosa che noi dobbiamo desiderare. Che può essere un amore, può essere un obiettivo del lavoro, che può riguardare persone, idee e cose, insomma le nostre ambizioni, i nostri sogni che desideriamo raggiungere. Ebbene, è necessario che ci sia questa oggettivazione, perché è proprio attraverso questa oggettivazione che si mette in moto il sistema dell'appagamento, per quanto riguarda la nostra istanza logica, e il sistema della rigenerazione, per quanto riguarda la nostra parte emotiva. Diciamo che se non ci fossero conflitti, l'appagamento e la rigenerazione non vengono naturalmente evidenziati dall'individuo, ma tutto permane in un continuo flusso di eventi che si ripetono tranquillamente nella nostra vita. Il turbamento scaturisce quando questi eventi subiscono un blocco, ossia un vincolo che impedisce di poter procedere ad assolvere queste funzioni. L'istanza logica non si può più appagare, l'inconscio non si può più rigenerare. Questi vincoli naturalmente vengono attivati sia dall'istanza logica e sia dall'inconscio nel momento in cui ci troviamo di fronte a un conflitto. Quando sussiste un conflitto esiste un vincolo che non permette l'espletamento. Questo vincolo può essere pilotato dall'istanza logica e quindi agisce a danno dell'inconscio, quando invece al contrario può essere attivato dall'inconscio per danneggiare l'istanza logica in sostanza. Potremmo definire che due classificazioni di vincoli in questo caso, quelli gestiti dalla ragione si chiamano vincoli costrittivi, ossia questi vincoli impediscono all'inconscio di potersi rigenerare e quindi ad assolvere la sua funzione, rimanendo questa funzione compressa in termini energetici, in quanto non espletata. Si chiamano vincoli costrittivi. Mentre possiamo avere i vincoli compulsivi, nel momento in cui invece è l'inconscio a governare questi vincoli impedendo all'istanza logica di poter intervenire. Si chiamano compulsivi perché vanno oltre la ragione. Pensate semplicemente a un dolce in sostanza, al comportamento di fronte a un dolce. Possiamo impedirci di mangiare quel dolce perché per vari motivi riteniamo che ci possa far male, in questo caso attiviamo un vincolo costrittivo perché impediamo all'inconscio di poter appagare una propria esigenza e quindi un proprio piacere. Effettivamente abbiamo anche il vincolo opposto, ossia quando malgrado la parte logica e vorrebbe fare meno di quel dolce, l'inconscio spinge l'individuo a livello compulsivo, quindi ipnotico potremmo definire, a far sì che inevitabilmente contro tutte le possibili ragioni, pensate al pacchetto delle sigarette, quello che c'è scritto sopra, tu continui tranquillamente a fumarti le tue 20, 30, 40 sigarette. Allora questo ci trova di fronte a un evento compulsivo. La parte logica vorrebbe cessare l'utilizzo di queste sigarette per esempio, ma rimane impotente, incapace di agire in quanto praticamente l'aspetto compulsivo prende il sopravvento. In questo caso l'inconscio prende il sopravvento con l'istanza logica e quindi potremmo definire l'inconscio prende il sopravvento nel piacere a discapito della sofferenza che questo piacere possa creare. Mentre al contrario ci troviamo di fronte a una prevaricazione dell'istanza logica la quale praticamente blocca l'inconscio, blocca le emozioni non permettendo a questo inconscio di riconoscere l'oggetto di desiderio, in quanto questo desiderio può essere un incubo. Ah certo, e questa competizione tra queste due istanze, tra questi due capi di Stato, la nostra razionalità e la nostra sfera istintuale inizia ben presto nella vita dell'individuo? Devo dire che inizia nella fase proprio neonata in sostanza, in quanto cessata il mare calmo iunghiano della fase prenatale l'individuo si trova ad avvertire, a percepire delle esigenze che non sono omeostaticamente appagate, ma necessitano di una somministrazione per questo appagamento e quindi ci possiamo trovare nelle condizioni in cui l'individuo può soffrire per aver troppo desiderato o per aver troppo posseduto l'esigenza primaria che potrebbe essere quella della fame, della sete o altro. Appena nasciamo in sostanza già nasce la distonia con noi, la distonia nasce con noi. È tanto vero questa frase che possiamo affermare che l'individuo si identifica nella sua distonia, la distonia sta nel suo turbamento, la distonia sta nel suo disagio e perché poi da adulti potremmo definire nel suo problema. L'identificazione è talmente forte, tale da essere il problema l'individuo stesso, in sostanza poi alla fine a lungo andare, ma questo lo vedremo a lungo la nostra strada.